Bab 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 Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Fımıli! questo è un video aggiornamenti ma aggiornamenti in generale anche del canale stesso esatto perché abbiamo fatto delle cose importanti per il canale non so se ve ne siete accorti se avete guardato bene il canale la copertina l'immagine del profilo non uscite ad andare a vedere perché adesso ce la guardiamo insieme perché ragazzi il canale ormai c'è da un bel po di mesi e abbiamo creato la copertina del canale la copertina ufficiale perché la copertina che c'era prima detto sinceramente non immagino che avevo preso da google e avevo scritto sopra space family e invece questa è proprio ufficiale nostra della space family e anche l'immagine profilo perché come avete notato l'immagine profilo siamo noi in versione per chi che però quelle di prima devo vedere aspetta gliela metto guardate boom ok questa è quella che avevamo prima vedete che abbiamo martino piccolino in fasce in mezzo alla mamma chioccia e poi c'è vale il papà però dato che e questa era un immagine del profilo che ci avevate mandato voi in realtà esatto è vero ci avevano mandato loro quindi l'abbiamo cambiata perché martino ormai è cresciuto un pochino quindi non può stare più in fasce così tutto quindi adesso tutto e si era così dentro le fasce e quindi abbiamo cambiato ed è questa qui eccolo qua martino adesso è seduto martino abbiamo tenuto sempre versione super clic perché in quell'altra non si vedeva nemmeno il colore di capelli dato che non lo sapevamo quindi biondino io e vale vi piace vi piace ma prima di farvi vedere la copertina che abbiamo creato perché lì c'è stato proprio un impegno dietro un bel lavoro dietro vlogghiamo un po' ah vlogghiamo un po' vlogghiamo un po' di questa giornata il risveglio del soldato buongiorno pesolino buongiorno 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 guarda mi rispondo già subito adesso perché so che lo sta oddio oddio che mi abbaglia so che lo starete scrivendo tutti nei commenti eccetera eccetera perché è la cosa che stanno scrivendo di più di tutte amore guarda che bello sei in metà metà ombra metà sole che bello tutti nei commenti staranno sicuramente scrivendo ma quando incontrate Dante quando incontrate la Sabri Epica ce lo scrivete in 800 miliardi ragazzi ovviamente ci incontreremo con loro già abbiamo parlato ci siamo messi d'accordo che questa settimana ci incontreremo esatto però non è detto che facciamo il vlog ci incontriamo di base siamo amici capito poi c'è la voglia facciamo anche un vlog e quindi vedrete l'incontro di Mamo con il suo cuginetto Dante quindi adesso vediamo se questa settimana ci incontreremo ieri stavamo proprio pensando diciamo ma la Sabri è partorita noi non abbiamo ancora elaborato la cosa che ha partorita cioè guardiamo vediamo lei che ha latta fa però non abbiamo ancora concezione che abbia partorita io proprio c'ho solo lei con la pancia esatto fino a quando non la vediamo con i nostri occhi non ci crediamo non ci crediamo a Dante è vero Martino e Dante due cuori una cavanna ah cavanna amore abbiamo un amantide religiosa è enorme è enorme ma è enorme salutate tutti l'amantide religiosa madonna Ci tenevo a filmare una cosa, queste piadine, qui, che mi ha regalato il mio amico del bar, quindi che saluto, ciao, un adulto che ci guarda, perché uno dice e pensa che sono tutti piccoli che ci guardano, non è vero, anzi, in questo momento scrivete qua sotto nei commenti quanti anni avete, ripeto, tu che stai guardando il video scrivi qua sotto quanti anni hai. Siamo curiosi di vedere perché secondo noi il nostro percepito che ci seguono bambini piccoli e adulti, famiglie, quindi genitori con bambini oppure anche genitori senza bambini che ci guardano eccetera eccetera, scriveteci la vostra età che noi siamo molto curiosi, la vostra vera età, hai capito che devono mentire sulla loro identità? E no, magari quelli minorenni, no, no, scriveteci anche se avete otto anni, scrivete otto anni e guardo la space family, oppure ho 59 anni e guardo la space family, beh, perché no, beh, ci mangiamo le piadine del mio amico e ci vediamo dopo. Ah, aspetta, aspetta, c'è un'altra chicca che non ho mai fatto vedere a nessuno, c'è sempre stato spoiler nei nostri video, del nome del figlio della sabre pica, io da quando abbiamo saputo il nome, io ho preso sempre l'olio Dante. Sì, ma ho preso quello che è mio. Esatto, quindi non ve lo mostravo tanto, però io vi giuro, da quando abbiamo saputo il nome, ogni volta che vado al supermercato e vedo olio Dante, lo prendo e Dante da grande sarà così. Così sarà da grande? Anzi, guarda, adesso facciamo una cosa divertente. Fate uno screenshot ora al video e mandatelo tutti, ma tutti in direct alla sabre pica, con scritto Dante sarà così. Hai fatto lo screenshot? Hai ancora tempo? 3, 2, 1 Bu bu Senti te Bu bu Senti te Cosa fai con questo delfino? E lo dai? E dai papà il delfino? Dammi, dammi, dammi il delfino Ho preso il delfino Delfino Baciamamo Ma un po' di spazio Allora, è arrivato il momento di darvi il secondo aggiornamento La copertina Eh, la copertina è un qualcosa di... Spaziale nel vero senso della parola Se avete notato, i personaggi della copertina siamo noi, effettivamente C'è Martino seduto sulla, biondino, con gli occhi celesti, bianco Un casco d'astronauta Un casco d'astronauta Poi c'è Vale che è di là Sulla sinistra Esatto E sulla destra ci sono io Ma Fate sulla copertina Il simbolo Nascosto Ah esatto Guardate bene la copertina E scriveteci qua sotto nei commenti cosa notate Do qualche indizio Sulla tuta d'astronauta Eh vabbè Eh vabbò dai Vabbè Vabbè Vabbò capito Non è che dobbiamo giocare a indovina chi C'è Eh Comunque vi piace la copertina E soprattutto C'è il logo Perché il terzo giornamento è il logo È il logo Space Family Noi ci siamo innamorati di questo logo Scriveteci nei commenti se vi piace la copertina Se vi piace il logo Se vi piace il logo E l'immagine di profilo Esatto Siamo molto soddisfatti noi Sì Di questa cosa e contenti perché Guarda Martino Guarda Martino Martino Ah anche Martino è soddisfatto e contento L'ho reso partecipa e si stava offendendo Comunque Questi sono gli aggiornamenti un po' del canale Oltre questo Stiamo anche progettando un'altra cosa bella Ah Ah io lo vuoi dire No Accenno Un accenno Ah ma quella è spazio Quella è proprio una cosa epica Se vieni come vogliamo È epica Quella è epica Quella è incredibile Quella è incredibile Incredibile Quella se la vedete dite No vabbè No vabbè Basta Vabbè Diciamo ci sarà un grande cambiamento nella sigla Esatto Cioè la canzone rimarrà la stessa Perché ormai ci siamo affezionati No la canzone non ci può cambiare Ma la canzone Aspetta aspetta La canzone è di qualcosa È di un cartone Esatto Che non so se tanti l'hanno visto questo cartone Però non lo spoilerare Esatto Perché Prenderemo ispirazione da questo cartone Per fare la nostra sigla Detto ciò non vi dico altro Tanto ci vorrà ancora un po' di tempo Prima che verrà ultimata Sì sì E poi la vedrete Ve la faremo vedere Faremo un video dedicato a questa sigla Perché sarà una cosa È una cosa grande Detto ciò questi erano gli aggiornamenti importanti del canale Che ci tenevamo a rendervi partecipi Non solo schiaffarveli lì sopra Esatto Perché ci teniamo E qua sotto Qua sotto In descrizione trovate anche le date Degli eventi Esatto Anzi Già ve le abbiamo messe all'inizio del video Però comunque Novara Verona Verona E aprilia E aprilia Ci vediamo amici di quelle zone Trovate tutte le informazioni qua sotto È fine settimana È raga Sì 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 Sabato e domenica E poi Adesso Sì Ci vediamo adesso Cioè Che sei affatto Mangia veloce perché dobbiamo vederci Ancora un po' Ancora un po' Tra l'altro Un'altra notizia Un'altro aggiornamento Mi hai scelto l'inizio Che volevo dire Eh sì Fra Tre giorni Quattro Due giorni Martino Fa nove mesi Il venti E ci trasformeremo Come al solito Abbiamo già qualche Dè in mente Vediamo se indovinate Provate a indovinare Qui sotto nei commenti Tanto noi stiamo leggendo Stiamo a mangiare sicuramente Stiamo leggendo i vostri commenti Vi salutiamo tutti alla chat In premiere Non mancate le premiere Le facciamo da quando È aperto il canale Facciamo sempre la premiere È vero È una cosa che ci caratterizza È vero E l'ultima cosa Volevo dire è Sto scordata Sto scordata Uh potete schiacciarti in brufa No amo dai Dai per favore Ahia Ahia mo Escivo Spezza un'altra cosa Mentre pensi ti schiaccia Ahia Mi fai mani Comunque ah sì Che siamo praticamente a 300.000 iscritti Manca poco Manca poco Manca poco e 300.000 iscritti 300.000 iscritti Non abbiamo mai festeggiato il 100 Sì sì Faremo una cosina Ma dai 300 Dai 300 Faremo una cosina Dai Dai 300 Dai 300 Abbiamo intenzione di festeggiare Perché comunque sia un traguardo nostro E sia un ringraziamento per loro Esatto esatto Quindi faremo Quindi una cosina E colgo l'occasione E colgo l'occasione perché neanche questo diciamo mai Iscrivetevi al canale se state vedendo il video Esatto Magari non vi siete iscritti Iscrivetevi Mettete like E basta ragazzi Questo era un bel po' di aggiornamenti Adesso per tutti gli spacefamiliani Vi delizieremo con Della nostra giornata E vogliamo il video del niente Vogliamo il video del niente Comunque era il giorno del niente Non il video del niente Vogliamo il video del niente È il giorno Bravo È È È il giorno del niente Non è il video del niente Grazie Don't you un bacio Che c'è di Di parmigiano Mamma mia Non me la prezzo Vogliamo il giorno del niente Vogliamo il giorno del niente Vogliamo il giorno del niente Niente Prego se venite Se venite all'evento Venite con un cartello usito Vogliamo il giorno del niente Giuro che lui lo sa Io mi salto addosso Beh ragazzi Ci vediamo dopo Ti piacciono le canzoni Dio zicchino d'oro Uff until T Name Tiina Repro Il Tiina At Vance! 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 Mamma, mi hai ciecato un occhio, no! Mi hai ciecato un occhio! Che ne pensi? Martino? Che stava c'è? Mi stava c'è l'impianto? Ah, era uno scherzo! Ciao! Ciao! Ciao a tutti! Barbellunia Sushi in un nuovo occhio in la Space Space! Sta chiamando mamma! Mamma? Dov'è mamma? Dov'è mamma? Dov'è mamma? Dov'è mamma? Dov'è? Mamma? Eccomi! È lì mamma! Hai indovinato! Dov'è papà? Dov'è papà? Dov'è papà? Mamma? Dov'è papà? Se ti guarda capisci! Dov'è papà? Ecco! Dov'è papà? Ha guardato mamma! Dov'è mamma? Dov'è mamma? Dov'è mamma? Dov'è mamma? Dov'è mamma? Dov'è mamma? come un'mamma? Bravo mamma! Poi è un vanitoso si guarda sempre nello specchio! Vanitoso! Vanitoso! Aiuto! No Bubu Bubu Siete te Mi hai preso il naso Mi hai preso il naso È il 17 di ottobre Ciao Vale del futuro Ciao Martino del futuro Volevo mandarvi un messaggio È il 17 di ottobre Sei felice E lo sai Ciao Saluto a me del futuro E anche a Martino del futuro Ciao Martino del futuro Vedete ai miei amici cos'hai comprato Ho comprato oggi Un Un basket Un basket Un coso per giocare a basket Esatto in casa Poi mi ha comprato Un Gandalf E Il bat segnale di Batman Guardate raga Sicuramente al buio Rende meglio Però vedete Mentre tu lo metti contro il muro E ti fa il segno di Batman Allora qua Che bello Poi amore cos'hai preso? Poi ho preso Le vitamine di Martino Una crema freddo e vento Sempre della hip Raga io amo la hip Questa è umana Ah un sacco di 24 omogenizzati di umana La prugna E 24 omogenizzati di vitello E pollo Ok Poi ho preso Scorte scorte Prendere le scorte tutti insieme Risparmiamo un po' Poi ho preso Le led Un led a forma di nuvola E uno a forma di Di astronave Che andremo a mettere Nei nostri studio Di norma dovrebbero servire Semmai faremo delle live Volete delle live su youtube? O su twitch? Poi ho preso Due sparatappi Delle bottiglie Bellissimi E ho preso Completino numero uno Completino numero uno Di Martino Completino numero due Completino numero tre E poi ha preso Questi bellissimi Cosi colorati Come si chiamano questi cosi? Per il trucco E come si chiamano? Hanno un nome Non mi ricordo Le fasce fioccose Le fasce fioccose Le fasce per il trucco Per i capelli Le fasce per il trucco Esatto Ragazzi per oggi è tutto G milione Striccia la notizia A voi Ah no Ho sbagliato il programma Ragazzi Da qui è tutto Ci vediamo In un prossimo video Mettete like E speriamo vi E speriamo vi siano piaciuti Tutti gli aggiornamenti Esatto Adesso dobbiamo andare Da mangiare a Martino Poi ci mettiamo a vedere Il grande fratello E poi E poi ci vediamo domani Ovviamente Ah domani esce un video E certo che esce un video Adesso ci vediamo domani Ci penso io Ciao a tutti amici Ci sono anch'io Un saluto da Martino L'affamato Esatto Ci vediamo domani Con un nuovo video Our Space Family Ciao Ciao